via vado ricordi che sono 5 minuti ok da lì inizia a lavorare grazie bravo 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 aprile con la guardia dai 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 cosa fai così? aprile con la guardia grazie bravo 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 ti convinto quando lo fai guarda grazie vai 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 stop centro guardia guardia vai ragazzi ma io non so Grazie 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 40 secondi Aldo 40 secondi Aldo Si sta girando Prendila con la schiena e lì? Aggancialo con quella mano Fianco, un'altra parte del fianco Aldo, lo ribalti Tienilo così Pazzalo sotto con la mano Tiralo, tiralo Che tira? Eh Dipende anche il braccio Occhio Non sforzare Aldo Non fregare nel giro Aldo Spunta le cosce, non lo far salire Aldo Stop Applausi